Abbiamo qui niente poco di meno che Mr. Rivas, detto anche Mr. Universo. Surely I could always be that way again, and yet, I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. One moment, please. La, c'ho l'ess pure io. Rivas, Rivas, eh? La, molto bene, molto bene. Abbiamo qui niente poco di meno che Mr. Rivas, detto anche Mr. Universo. Mr. Rivas. How you do, Mr. Rivas? Rivas? Rivas. Rivas? Rivas. Rivas, siamo quasi uguali, eh? Una S, ci manca fra noi due, una S e poi siamo uguali. Mr. Rivas, you speak Italian? No. No. You prefer that I speak English? No, è meglio parlare italiano. Uno studia tanto, poi arrivano questi, c'è meglio che parla italiano. Questa è proprio ingratitudine, io faccio degli sforzi. Lei è Ercole, è vero? Ercole, ha impersonato Ercole nel film Le Fatiche di Ercole. Prima, sì. Prima, sì. Adesso invece che cosa fa? Ercole, eh? O la regina di Lidia, è vero? Secondo episodio. Sì. Lei piega le sbarre di ferro, ammazza i leoni, butta giù i palazzi. Direttore, Pietro Franceschi. A questo si è imparato in italiano, bravissimo. Molto bene, Mr. Rivas. Ma se fu, stavo. Bello, Mr. Rivas, eh? Grazie. Molto bello, Mr. Rivas. Mr. Rivas, Mr. Rivas, please. Please, Mr. Rivas. Yes. Quanto è bello. È molto bello, però io l'ho visto sempre in pose tutte così. Oh, sì. Bello? Sì, sì. Prego. Mr. Rivas, noi abbiamo un apparecchio speciale. Attenda, eh? Telescopia. Fum!